buongiorno a tutti da francesco samani e come mi avete chiesto devo dire in tanti in questo video parlerò del calcolo della probabilità è molto utile per prepararsi al concorso 2020 relativamente alla prova preselettiva cominciamo allora che cos'è la probabilità di un evento allora la probabilità di un evento probabilità connessa a un evento e e sta per evento p sta per probabilità non è nient'altro che il quoziente quindi devo dividere il numero di casi favorevoli diviso il numero di casi possibili e scopriremo più avanti che la probabilità di un evento può muoversi in questo ambito qui avremo come risultato 0 al massimo avremo risultato 1 e in mezzo avremo un mezzo questo è il campo della probabilità qui avremo l'evento impossibile qui 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 l'evento probabile e ad uno avremo l'evento certo facciamo un esempio allora si voglia calcolare la probabilità che da una moneta esca testa o croce quindi probabilità e l'evento e ovviamente l'evento sarà quello richiesto dalla traccia quindi probabilità che tirando una moneta esca testa o croce allora quanti casi favorevoli ho? se io per esempio voglio che esca testa ho un caso favorevole quanti casi possibili ho? due perché può uscire testa o croce la probabilità è 0,5 attenzione il risultato lo posso dare anche in termini percentuali se voglio la probabilità percentuale scriviamolo così probabilità che esca testa o croce in termini percentuali basta che moltiplico la probabilità e per il 100% in questo caso 0,5% è il 50% quindi è ovvio che finché possa uscire testa o croce io ho la probabilità del 50% adesso chiamo evento 1 la probabilità che da un dato esca un numero pari allora P di E1 in un dato ci sono 6 numeri 1,2,3,4,5,6 i numeri pari sono 3 quindi quindi i casi che mi servono a me favorevoli affinché esca un numero pari i casi favorevoli sono 3 i casi possibili sono 6 perché ci sono 6 numeri andando a semplificare esce di nuovo un mezzo e ottengo 0,5 che abbiamo già visto che corrisponde al 50% se voglio avere la probabilità che esca ad esempio 1 da un dato P dell'evento 2 affinché esca 1 allora c'è solo una faccia con 1 su 6 casi e quindi la probabilità in questo caso è un sesto se voglio ottenere sempre il tutto in termini percentuali un sesto non è un numero intero ma è un numero decimale e andandolo a moltiplicare per 100% esce 16,6 periodico per 100 quindi circa in questo caso potrete trovare nella traccia il 17% vi ricordo che l'approssimazione dal 5 in su si approssima al numero più grande questo numero viene approssimato al numero più grande da 0 a 4 al numero più piccolo mi raccomando condividete i video mettete il pollice in su lasciate suggerimenti, commenti tutto quello che potete fare è il benvenuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina ovviamente se ci saranno tante visualizzazioni io continuerò a fare questi video sul calcolo della probabilità perché davvero me lo avete chiesto in tanti e spero che ci sia ancora questa esigenza allora vi saluto, alla prossima ciao